L'esclusivo termo cuscino Misa unisce al caratteristico design svedese delle sue punte per agopressione un cuore tutto italiano e naturale, in pula di farro biologico. Dopo tre minuti nel forno rilascerà gradualmente un benefico calore. Applicandolo al tappetino Misa, ecco il materassino per agopressione più lungo in commercio, dall'area lombo sacrale a quella cervicale, un'estasi di relax e distensione capace di stimolare tutti i meridiani rilevanti a livello riflessologico. L'azione congiunta di termoterapia e agopressione agirà in profondità, con il morbido cuscino, proprio nella zona della cervicale. Può essere usato localmente ed anche a freddo, goditi così un'incredibile sensazione di benessere. Armonia e benessere solo svedese, solo naturale, solo da Misa.